Il sistema tecnico di tre parole è la metodologia, la precisione e la creatività. Per lo più nel mio lavoro utilizzo il PC e il software CAD. Dopo i rilevamenti delle misure prese alla passerella, ho realizzato il modello 3D per poi modificarlo. Il bagaglio che devi avere per iniziare questo premistato è sicuramente avere le basi dell'utilizzo del PC, la curiosità e in più aver fatto magari alle medie un po' di disegno tecnico.